di cui non si conosce la causa fisica. Che cosa sono i fenomeni acustici? Commento. Sono fenomeni sonori, di cui non si conosce la causa fisica. Comprendono i raps, colpi, la musica medianica, la voce diretta molto rara, alcuni casi di poltergeist, in tedesco spirito rumoroso, e i rumori che si odono in ambienti che ospitano da molto tempo riunioni medianiche evolute e ne sono stati magnetizzati.